Con i nuovi fondi stanziati dalla legge di conversione del decreto legge agosto e le risorse reperite dal commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini, si avvia l'assunzione immediata di 138 dipendenti da destinare agli uffici speciali della ricostruzione che vanno ad aggiungersi ai 640 degli organici attuali. Si rafforza così anche la struttura del commissario straordinario con 12 nuove unità di personale e la nomina di due subcommissari per l'esercizio dei nuovi poteri straordinari in deroga per le ricostruzioni complesse, Fulvio Soccodato e Gianluca Loffredo. Dei 138 nuovi tecnici in arrivo agli USR, 72 sono assegnati alle Marche, che è la regione che ha subito i maggiori danni, 18 vanno invece a Lazio ed Umbria e 30 all'Abruzzo, che recupera così il sottodimensionamento del passato. L'intesa sul riparto delle nuove risorse è stata raggiunta ieri dai presidenti delle quattro regioni su base di una proposta del commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, che tiene conto dei carichi di lavoro attesi. Su 80.000 edifici censiti, come inagibili dopo il sisma del 2016-2017, le istanze di contributo finora presentate sono 19.500. Le pratiche in lavorazione negli uffici speciali e nei comuni ed in fase di integrazione da parte dei tecnici, quindi, non ancora giunte a conclusione, sono circa 12.000. I contributi richiesti ammontano a circa 4 miliardi e mezzo di euro, quelli già decretati ad 1,5, mentre le erogazioni effettive che procedono con lo stato avanzamento lavori nei cantieri sono pari a circa 700 milioni di euro. Le priorità per il 2011 vista la mole di lavoro sono tante. Oltre ai controlli sulle pratiche della ricostruzione privata, gli USR dovranno gestire sul campo alcune fasi fondamentali della ricostruzione pubblica e la redazione e l'attuazione dei programmi straordinari di ricostruzione nei comuni più colpiti, le opere da realizzare in deroga utilizzando i poteri speciali attribuiti al commissario.